Let's go, bitches! Non vi preoccupate, dall'altro come avete visto non ho mai fatto vedere le persone in faccia o cose simili e tra l'altro è qualcosa che è più grande di quello che potete pensare e mi hanno fatto passare i guai diciamo e forse me li faranno passare, non lo so ancora, speriamo che le cose si tirino su. Fatto sta che io continuerò per la mia strada, farò quello che ho sempre fatto indipendentemente perché se su Ghost ero cresciuto io ho seguito la mia strada, non mi sono diciamo interessato di nessuno, ho lavorato per il mio conto a crescere e a migliorare quello che era la nostra, diciamo il nostro panorama. Fatto sta che ora inizia la stagione di Black Ops 3 e dopo cena io sicuramente streamerò perché David Bonderar ha dato il via a streammare, quindi streamerò sicuramente Black Ops 3, spero che voi mi seguiate. Oltre a questo ovviamente inizierò con i video, da domani inizierò con i video per aiutarvi ovviamente a salire, a crescere, a migliorare come giocatori, quelli che faccio su Ghost, farò un po' di pub stomping eccetera eccetera. Specialmente domani vorrei fare un video che si tratta di una delle classi con cui iniziare a giocare a Black Ops 3, cosa voglio dire, cioè una delle classi che secondo me è migliore o comunque una delle armi migliori da utilizzare per iniziare a giocare a Black Ops 3 dato che le armi più forti si sbloccano molto ma molto più avanti ed è molto lento salire di livello. Stessa cosa per quanto riguarda il competitive, penso di continuarlo, ho avuto un'offerta veramente grande da un team molto grande europeo che penso di accettare, introdomenica saprete cosa e come, anche Liquid mi hanno detto di fare questa cosa ma nonostante questo io continuerò a collaborare con loro qui in Italia per promuovere comunque l'esporta e il competitive. Questo perché alla fine è grazie a voi se io sono arrivato ora dove sono, se ho questa opportunità e quindi devo anche fare qualcosa per voi e spero di riuscirci comunque andando a giocare con un team non italiano e quindi cercare di fare risultati migliori di quelli che si possono ottenere qui in Italia, quindi dare visibilità al nostro stivale. Allo stesso modo ho anche un'offerta di lavoro come sapevate già da parte dell'Activision che non so se mi obblicherà a giocare, cioè a non giocare, quindi beh questo lo saremo più tardi, io spero che vi piaccia il programma di quest'anno di Black Ops 3, è un video abbastanza breve, sono solamente i miei pensieri su questa cosa. Mi dispiace che non sono potuto andare a Milano oggi per l'evento di release di Black Ops 3 ma a volte non si possono capire determinate cose, cosa che continuo a non capire, quindi non ci si può fare niente, io mi prendo le mie responsabilità e vado avanti per la mia strada. Let's go bitches!